In questa puntata parliamo di cosa si può fare per lavorare nella fotogrammetria con la fotogrammetria. Questo è l'episodio numero 38 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di strumenti, di software, di mappe, di geomatica, di cartografia, di tutto quello che ruota intorno al mondo della misura. Nella puntata precedente a questa, la puntata numero 38, ho parlato di quello che si può fare per lavorare con i droni, con gli APR, in questo momento, inizio 2019, in Italia. Ho condiviso un po' della mia esperienza, visto che li uso per lavoro, per fare rilievi tecnici e rilievi fotogrammetrici. Questa puntata, l'episodio 39, è un po' la prosecuzione dell'episodio 38, ma si cala un po' di più e più specificatamente nel mondo della fotogrammetria. Per cui oggi vorrei parlarti di quello che si può fare se vuoi avvicinarti al mondo della fotogrammetria, specialmente nella fotogrammetria tecnica. Quindi se vuoi decidere di lavorare in questo settore, sia che utilizzi droni, sia che utilizzi fotocamere terrestri. Non voglio, anche oggi, non voglio darti consigli da guru, non sono assolutamente in grado di farlo, non ne ho titolo, non ne ho esperienza, insomma non sono nessuno per fare quello che fa la predica o dà dei consigli dall'alto di qualche pulpito. Vorrei condividere la mia esperienza, nello specifico rispetto al lavoro con i droni, il lavoro fotogrammetrico mi riguarda proprio da vicino perché io sono specializzato in questo, quindi lavoro esclusivamente per la fotogrammetria. Poi si utilizzano altri strumenti, strumenti topografici che hanno un corredo, che creano un corredo di strumenti che sono gli strumenti di lavoro, però la mia attività riguarda quasi esclusivamente la fotogrammetria. Per cui quello che vorrei fare oggi è darti a fare delle considerazioni che riguardano la mia esperienza e quello che ho fatto io per poter poi arrivare a lavorare nella fotogrammetria. Questo non vuol dire arricchirsi, non vuol dire vivere da una babbi, vuol dire comunque lavorare scegliendo un settore e rimanendo in quel settore, standoci bene e potendo lavorare in quello che uno ha scelto di fare. Prima di parlare di queste cose, di iniziare un po' i miei pensieri che riguardano questi aspetti, volevo ricordarti che il riferimento online di 3Dmetrica è www.3dmetrica.it Ci trovi tutte le puntate di questo podcast, ci trovi tutti gli articoli del blog, a breve ci troverai anche qualche video che ho iniziato a fare che riguardano tutorial su alcuni software che si usano nello specifico nel mondo della tridimensionale fotogrammetria e gestione dei punti e trovi anche tutte le coordinate per metterti in comunicazione con me. Volevo soltanto ringraziare le persone che mi hanno dato dei feedback e dei riscontri dopo l'ultima puntata, dopo la puntata appunto che parlava del lavoro con i droni, sono stati dei riscontri belli e mi hanno fatto venire voglia di fare anche questa puntata e quindi grazie a tutti per i riscontri che mi date, sono davvero importanti, fondamentali e mi danno la spinta e la voglia di continuare questo progetto di podcasting. Ma ora parliamo di rilievi e di fotogrammetria e di lavoro. Facciamo una premessa e la calo di nuovo su di me, su quello che faccio quotidianamente per lavoro. Parliamo di fotogrammetria con un aspetto un po' più legato al tecnico, quindi con lo scopo di restituire in output qualcosa che sia tecnico, tipicamente un rilievo, un modello tridimensionale, georeferenziato, misurabile, che poi va in mano a qualche amministrazione pubblica per fare valutazioni, analisi di rischi o di pericolo legato al disastro geologico o viabilità oppure va in mano a qualche progettista, a qualche studio, a qualcuno che deve fare un progetto. Per cui tutto quello che ti dico di tecnico in questa parte, in questa puntata, è un po' pensato a questo aspetto. Perché? Perché è un po' l'aspetto dove lavoro ed è quello che vedo tutti i giorni e con cui mi confronto quotidianamente. La puntata di oggi si divide in due parti. Io mi sono scritto su un foglio alcune cose che vorrei trattare. Fondamentalmente le macro aree sono due. C'è una parte legata agli aspetti un po' più tecnici, al know-how se vogliamo, e poi c'è un'altra parte che è legata a una sorta di, boh, chiamiamole pratiche o consuetudine o meno cose che io faccio e che ho visto nel tempo mi hanno dato una grande spinta per poter lavorare in questo settore. Sono fondamentalmente legate a un aspetto che a me sta molto a cuore, che è la condivisione dell'informazione e dei contenuti che porta poi a creare una rete che poi porta a lavorare. Però iniziamo dalla parte tecnica. Se vuoi lavorare nel mondo della fotogrammetria, beh, la prima cosa che mi viene da dire è che devi conoscere quello che stai facendo. La fotogrammetria è una scienza molto bella, molto interessante, a me appassiona tantissimo. È una scienza trasversale. L'ho già detto in un'altra puntata precedente di questo podcast. È una scienza che tocca la fotografia con tutto quello che si porta dietro la fotografia, quindi le fotocamere, i sensori, le lenti, i principi dell'ottica. Passa attraverso la topografia perché per fare un rilievo fotogrammetrico non puoi prescindere dalla topografia, non puoi far finta che non esista la teoria della misura e non puoi prendere elementi a terra che ti diano la solidità per fare un rilievo aerofotogrammetrico così come deve essere. E poi arriva a considerare tutta la parte legata al 3D, al digital imaging, ma anche alla cartografia, alla trasposizione dei prodotti della fotogrammetria in mappe all'interno di sistemi di riferimento che devono essere conosciuti, che devono essere concordati con i tuoi clienti. Quindi la fotogrammetria è una materia trasversale e proprio perché è una materia trasversale ha dentro tante cose che devono essere sapute, anche se non mi piace aver detto devono essere sapute, tante cose che devi sapere perché ogni processo fotogrammetrico, ogni tassello di questo processo fotogrammetrico lo devi governare, devi sapere quello che stai facendo. Ti chiedo scusa per il rumore di sottofondo che hai sentito prima, oggi sto registrando da casa e ci sono i pappagallini di mia figlia che stanno facendo un po' di casino, li ho un attimo spostati, adesso dovrebbe essere tutto un po' più quieto. Comunque, dicevo, strumenti, conoscere quello che devi fare e conoscere anche gli strumenti, perché la fotogrammetria, essendo una tecnica che è legata al rilievo, necessita di strumenti per poter essere esercitata. Quindi c'è una parte teorica e una parte, chiamiamola pratica di campo, legata a degli strumenti. La prima cosa che mi viene da dire è che queste cose le devi conoscere, quindi devi conoscere la teoria, devi conoscere quello che c'è dietro il principio fotografico, quello che c'è dietro la misura, sia che sia una misura accelerimetrica con una stazione totale, sia che sia una misura satellitare dei punti d'appoggio, devi conoscere tutto quello che è la parte cartografica legata alla rappresentazione in mappa e alla trasposizione in mappa di un rilievo tridimensionale e un po' devi conoscere anche tutto quello che c'è dietro i software che elaborano i dati che butti dentro, quindi le immagini e le misure per tirare fuori quello che è il modello 3D, la nuvola di punti o quant'altro. Perché se non conosci quello che c'è dentro, questa magica scatola che crea un modello 3D, vai un po' alla cieca, ma non riesci a governare bene tutto quanto il processo e appena c'è qualcosa che non torna, rischi di incartarti o di, peggio ancora, tirare fuori degli output che sono sbagliati e che possono poi portare dei problemi a qualcun altro. Questa è la parte teorica, ma la parte pratica la devi comunque governare, quindi devi sapere se utilizzi una macchina fotografica terrestre, devi conoscere quali sono le impostazioni della macchina fotografica per cambiare banalmente, tempi diaframmi, ISO, sapere che obiettivi usare in quale situazione, sapere quali sono le caratteristiche del sensore e via via si passa ai droni, se utilizzi un drone per fare aerofotogrammetria, devi conoscere il drone, al di là del fatto che poi, se utilizzi certi tipi di drone, devi essere anche, tra virgolette, titolato, anche se non mi piace come parola, per poterlo far volare, quindi devi essere un pilota, se utilizzi droni che pesano più di 300 grammi, non sono inoffensivi, quantomeno adesso, nel 2019, inizio 2019 in Italia. Poi c'è la parte legata agli strumenti di campo, se utilizzi un GPS, un ricevitore satellitare, devi sapere i principi della misura satellitare, ma devi sapere anche come si usa un ricevitore satellitare, ancora di più con una stazione totale, che è uno strumento estremamente robusto, che ti permette di portare a casa il lavoro, dei punti battuti, praticamente in ogni situazione, ma è un po' meno banale da utilizzare, che un ricevitore satellitare, dove arrivi, schiacci un pulsante, più o meno, e hai la misura. E poi c'è la parte legata ai software, quindi i software li devi conoscere quello che c'è dietro, ma li devi anche saper usare. Quindi c'è tutto questo aspetto legato alla conoscenza, che è un aspetto che devi governare. Quindi la prima cosa che mi sento di dire, se vuoi lavorare nel mondo della fotogrammetria, è studia. Quindi studia da una parte, e sporcati le mani dall'altra parte. Lo studio è chiaramente fondamentale, ti permette di acquisire tutto il tappeto, quello che formerà il tappeto della tua professione, ma lo studio di per sé, specialmente per le pratiche di campo, arriva fino a un certo punto, oltre quello che ti serve fare, a sporcarsi le mani. Quindi devi andare sul campo, e devi iniziare a utilizzare gli strumenti, che normalmente utilizzeresti per lavoro. Il consiglio che mi sento di darti, in questo caso, ci ho fatto una puntata specifica, che riguarda proprio gli strumenti, è quello di fare tante prove. Tante, tante prove, tanti test, perché ogni strumento è diverso dagli altri, ogni strumento, anche all'interno della solita sfera, e della tipologia dei strumenti, ogni strumento ha le sue caratteristiche, ogni ambito è diverso, ogni condizione ambientale è diversa, per cui fai tante prove, in modo tale da impratichirti. Questa credo sia una regola che vale, una regola, un'abitudine, una buona abitudine, che vale sempre, in ogni contesto lavorativo, che preveda un'applicazione diretta sul campo, e che preveda un'applicazione degli strumenti, e di quello che hai imparato sui libri, direttamente sul campo, mentre stai facendo quello che devi fare, che ti troverai a fare. Probabilmente, se segui questo podcast, lo sai, io condivido lo studio, con un mio carissimo amico fotografo, Davide Umberto Zappa, che sarà poi ospite di nuovo, tra le puntate di questo podcast, per parlare di aspetti fotografici, legati alle immagini, che si scattano per i rilievi, e lui, che io ammiro tantissimo, da un punto di vista fotografico, al di là del fatto che siamo molto amici, è un professionista, che prova, testa continuamente, non tanto le macchine, quanto le luci, utilizza tanto flash, per cui è uno che è sempre, a fare prove in studio, posizionando la luce in un modo, utilizzando un diffusore in un altro, utilizzando un tipo di flash, due tipi di flash, combinazione di luci diverse, luce artificiale, luce ambientale, in questo modo, lui riesce a migliorare, le sue abilità, facendo test, quindi non avendo la pressione, di un cliente, che durante una campagna pubblicitaria, è lì col fiato sul collo, e controlla tutto quanto, e in quel caso, lì si può dedicare, soltanto alla parte creativa, ma la parte tecnica, l'ha tutta immagazzinata, facendo tutte queste prove, e ti assicuro che ne fa tante, in studio, da solo, con i suoi tempi, con i suoi ritmi, senza che nessuno gli corra dietro, per cui, testa, sporcati le mani, perché questo vale oro, perché senza questa parte, non riesci a mettere insieme, teoria più pratica, ed essere, quantomeno pronto, per fare un lavoro, anche perché poi, quando devi fare un lavoro, quello che devi fare, mi verrebbe da dire, non sbagliare, ma sarebbe stupido, e anche un po' presuntuoso, dire non sbagliare, perché tutti sbagliamo, io continuo a sbagliare, e di errori ne faccio tanti, te ne assicuro, per cui gli errori ci stanno, sono umani, gli errori siamo umani noi, per cui, è anche bello che, che si sbagli, la cosa importante, è che, si deve lavorare con coscienza, e non si deve improvvisare, per cui, devi andare a fare un lavoro, un po' alla vala che vengo, da noi si dice così, per cui, dicendo, ma sì, in qualche modo lo tiro fuori, se non hai chiari alcune cose, se non hai mai fatto un rilievo, in modalità, pilotando il drone, in modalità manuale, ma hai sempre fatto dei rilievi, in modalità automatica, beh, prima di andare in una cava, che è alta 100 metri, e dove hai problemi, di ricezione delle satellite, magari qualche prova, falla, perché altrimenti, rischi di fare, o dei casini, o degli errori, ma, magari non acquisire, dei dati solidi, per cui, prova tutto quanto prima, in modo che sarai, in modo tale, che quando sarai sul campo, tu sia confidente, poi, gli errori ci possono sempre essere, può sempre succedere qualunque cosa, in alcuni casi, sono cose che, dipendono da noi, in altri casi, non dipendono da noi, per cui, il mio consiglio, quello che mi sento di dirti, è, cerca di governare, tutto quello che dipende da te, quello che non dipende da te, boh, ci vuole anche un po' di culo, secondo me, e quindi, scusami le parole, e quindi, è giusto, che ci siano degli elementi aleatori, delle cose che possono capitarti, che, che ti possono anche fare un po' sbandare, nessuno ti giudicherà per quello, c'è sempre la possibilità di recuperare, e se le cose non sono gravi, e non le sono, se tu arrivi sul campo preparato, e sai cosa stai facendo. Questa è la prima parte, che riguarda, la, la gestione tecnica, e l'approccio tecnico, e conoscitivo, agli strumenti, e a quello che devi fare. La seconda parte, o meglio, la, un'altra parte, legata a questa prima macro area, di questa puntata, che riguarda sempre un po' gli aspetti tecnici, pragmatici, pratici, boh, chiamiamoli come vogliamo, io non ne sono molto appassionato, però, inevitabilmente, è una cosa che bisogna conoscere, se tu vuoi lavorare, in questo campo, o comunque, se tu vuoi lavorare, e hai idea di metterti in proprio, o comunque di essere indipendente, o qualunque cosa sia, che tu che voglia, sia che tu voglia aprire la partita IVA, sia che tu voglia, fare delle prestazioni occasionali, ammesso che tu possa farle, adesso non voglio entrare in questi dettagli, sia che tu voglia mettere in piedi una società, con qualcun altro, la cosa che mi sento di dirti è, devi gestire i numeri, di quello che stai facendo, cioè devi conoscere, la parte economica, di tutto quello che stai facendo, perché altrimenti il rischio è che inizi con grande entusiasmo, con grande slancio, fai degli investimenti iniziali, compri dell'attrezzatura, attivi dei leasing, fai dei mutui, qualunque cosa tu possa fare all'inizio, sullo slancio veramente dell'entusiasmo, della voglia di fare, se non controlli tutto quello che ti succede intorno, in termini di spese, in termini di economie aziendali, quello che potresti, quello che potrebbe succedere, è che potresti trovarti a dire, ok, non è più sostenibile lavorare, non mi è più sostenibile lavorare, perché le spese sono maggiori delle entrate, perché i preventivi che faccio, non coprono tutte le spese, per cui, conoscere i numeri della tua azienda, adesso la chiamo azienda, ma potrebbe essere tranquillamente la tua partita IVA, comunque, di poco si cambia, perché si tratta di lavorare, e si tratta di gestire, dei numeri che ti riguardano, quindi, sapere, che cosa c'è dentro un preventivo, quando ti viene chiesto un preventivo, mettici dentro tutto quanto, ma non è soltanto il fatto che tu metti del tempo, a disposizione di una persona, per fare un rilevo, c'è dell'altro quando fai un preventivo, c'è banalmente, le spese vive, che sono le spese di trasporto, le spese di viaggio, le spese di vitto, le spese di alloggio, ma c'è dell'altro, c'è una parte legata agli strumenti, che tu hai comprato, che devi ammortare, c'è una parte legata alla tassazione, c'è una parte legata anche alle tue competenze, alle tue conoscenze, che nel tempo possono crescere, c'è un sacco di, ci sono gli imprevisti, ci sono persone che potrebbero lavorare con te, di cui tu potresti aver bisogno, in termini di consulenze, per cui, quando fai un preventivo, fallo con coscienza, sapendo che ci sono delle spese, che potrebbero essere ben maggiori, o meglio, l'importo potrebbe essere ben maggiore, rispetto al mero calcolo, del costo orario per ore, che dedico a questa commessa, non mi voglio soffermare troppo su questa cosa, però è una cosa importante, quando inizi un'attività, e ti ripeto, io sono abbastanza una capra su questo, ma mi ci devo sforzare sopra, perché è una cosa che va fatta, quando inizi un'attività, dedica del tempo, dedica delle risorse, dedica attenzione anche ai numeri, banalmente io utilizzo un time tracker, che si chiama Toggle, è uno strumento che tra l'altro, è anche un'estensione di Google Chrome, scritto T-O-G-G-L, è un time tracker, nel senso che io quando lavoro a una commessa, avvio questo tracker, quando faccio un task specifico, sulle varie commesse, avvio questo tracker, e questo mi traccia, il tempo che dedico, per ciascuna commessa, a varie attività, questo mi serve per fare dei preventivi, che sono sempre più robusti, perché so che dopo 4, 5, 6, 7 commesse, ho dedicato un 50% di tempo totale della commessa, a fare, che ne so, adesso sparo un po' a caso, anche se non sono numeri molto realistici, o casi molto realistici, ho dedicato il 50% al disegno CAD, perché devo restituire una planimetria, oppure ho dato il 20% all'elaborazione fotogrammetrica, in questo modo, a seconda poi di quello che mi viene chiesto, riesco a fare dei preventivi che sono più robusti, non lo potrei fare se non tenessi traccia di tutto quello che faccio, in termini di tempo, lo so, è un po' una menata, può essere, non è sicuramente la cosa più entusiasmante nel mondo, però aiuta, e si tratta di entrarci un attimo, un attimo dentro, e abituarcisi, e poi le cose si fanno, ed è veramente utile, quindi conosci i tuoi numeri, perché conoscere i numeri ti aiuta poi a essere sostenibile, e quindi a poter lavorare, altrimenti saresti sempre in perdita. Un'altra cosa che mi viene da dire, che forse ha un respiro un po' più ampio, rispetto al taglio di questa puntata, che parla di fotogrammetria, però ci tengo a farla, ed è riguardo alla professione tecnica, ora ci sono tantissime persone, tantissimi professionisti, bravissimi, che si dedicano a varie attività di tipo tecnico, ad esempio ci sono studi di progettazione, che fanno anche rilievi, oppure ci sono studi che si occupano di cemento armato, che fanno anche studi idraulici, oppure ad esempio anche nell'ambito dei rilievi, ci sono studi che approcciano tutti i tipi di rilievi, quindi fanno tracciamenti, fanno confinamenti, fanno catasto, fanno posizionamenti satellitari, fanno monitoraggi, fanno fotogrammetria, fanno laser scanner. Una cosa che, non so se mi sento di consigliartela, però con me funziona, con me ha funzionato, e credo che sia una strada che continuerò a percorrere, poi del domani non c'è certezza, però in questo momento, mi sento abbastanza forte di questa scelta, è che la specializzazione paga. Io ho scelto di, non l'ho scelto subito, l'ho capito dopo un po' di mesi che avevo iniziato, che ero migrato dalla mia passata posizione all'interno di questa società di ingegneria, dove facevo progettazione e studi di sesto idrogeologico, quando ho iniziato a fare i rilievi, all'inizio l'ho approcciato in maniera vasta, poi ho capito che era necessario specializzarsi, e quindi ho scelto di specializzarmi nell'acquisizione, nell'elaborazione di dati tridimensionali. Inizialmente pensavo di stare dentro anche con la parte di scansione laser, benché io non avessi, non ho uno strumento laser, avevo idea di appoggiarmi ad altri professionisti, eventualmente noleggiarne qualcuno all'occorrenza, poi lì ho capito che dal rilievo tridimensionale, quindi fotogrammetria, laser scanner, sarebbe stato ancora più opportuno specializzarsi nello specifico sul rilievo fotogrammetrico, per cui quello che ho fatto io è essere professionalmente specializzato, quindi dare i miei servizi nell'ambito della fotogrammetria, fotogrammetria non solo aerofotogrammetria, ma anche fotogrammetria terrestre. Questo mi permette di essere sul pezzo, su tutto quello che accade intorno alla fotogrammetria, in termini di nuove release di software, pubblicazioni scientifiche, non devo leggere pubblicazioni che riguardano il rilievo celerimetrico, la misura satellitare, la fotogrammetria, il rilievo laser scanner, sono molto più sul pezzo sulla parte fotogrammetrica, mi permette di applicarmi esclusivamente a questa parte e quindi di conseguenza miglioro, questo è un po' ritorno a dire quello che ho detto all'inizio, mi sporco le mani, è un po' un rigiro questo di parole, nel senso non è che mi sporco le mani adesso, però lavorando sempre in un solito ambito poi diventa, ti specializzi ancora di più, quindi diventi sempre più bravo, e questo poi porta un miglioramento anche della qualità dei tuoi lavori, riesci ad essere molto più confidente quando fai un lavoro e ti assicuro che la confidenza quando fai un lavoro è molto importante perché sai esattamente se quel lavoro che ti viene proposto lo porterai a termine, lo potrai fare o se avrai bisogno di un aiuto oppure se è il caso ed è importante saperlo subito, è il caso di dire no, non lo posso fare perché non ho le competenze, non ho gli strumenti, non sono abbastanza bravo e in questo momento non va bene per me, quindi la scelta di specializzarsi è una scelta che per me ha funzionato e mi sento molto contento di averla fatta, non è stata immediata, l'ho capito nel giro di qualche mese, ma mi sento di consigliartela perché stai più sul pezzo su quello che fai, c'è la paura che specializzandosi si perda una fetta di mercato relativo al catasto, relativo a tracciamenti, relativi a rilievi laser scanner, è una paura che posso capire che esista e ha ragione di esistere perché restringendo la forbice il mercato che c'è dentro si stringe, quindi le persone che possono avere bisogno dei tuoi servizi sono di meno rispetto al totale, però secondo me specializzarsi in un ambito paga poi per il fatto che nel tuo ambito diventi più bravo e quindi alla fine lavorando, facendo un lavoro dietro l'altro e poi facendo quello che poi ti sto per dire che riguarda la seconda parte di questa puntata, alla fine il lavoro arriva e tu ti devi concentrare solo su quello, non hai pratiche edilizie che devi svolgere perché hai un cliente che ti ha chiesto una scia, una cila, adesso non so cosa c'è in giro, scia, cila, cira, boh, non so, vabbè, hai capito, non devi seguire la pratica al catasto e non devi fare quel calcolo strutturale che ti è stato chiesto, quindi sei più sul pezzo e quindi hai anche meno distrazione e puoi dedicarti con tutte le energie, quasi tutte le energie che la tua attività professionale ti dà a disposizione a quell'ambito specializzandoti in quella cosa. Per me ha funzionato, poi parliamone, mi piacerebbe avviare un dibattito su queste cose per cui sai che io ci sono sempre per scambiarci opinioni, per scambiarci pareri e per scambiare pensieri che riguardano sia quest'ambito professionale più tecnico che anche un pochino più relativo all'approccio al lavoro. Un'altra cosa che vorrei, che mi piace sottolineare, che mi sento di consigliare e che ho già detto nella puntata precedente quella che riguardava il lavoro sui droni, è che secondo me ci vuole una certa dose di passione per decidere di intraprendere una professione e specializzarsi in qualcosa. Un po' come se non ti frega niente di far volare un drone e se i droni a te non ti piacciono, io la carriera di diventare un pilota di APR forse la lascerai stare. La stessa cosa se della modellazione tridimensionale di fare fotografie a una roba che sta lì ferma e poi a modellarla per ore e ore dentro un software pigliando delle misure buttandoceli dentro è una cosa che non ti entusiasma ma neanche non ti entusiasma non ti piace proprio io lascerei perdere perché ti assicuro che fare una cosa non H24 però perché ti occupa tutto il tuo budget di ore che dedichi settimanalmente al lavoro e quella cosa non ti piace alla lunga e allogorante e ti potrebbe far uscire di testa quindi mi sento di di dirti questa cosa nel senso che la cosa ti deve piacere o meglio ti devi avere uno stimolo oltre al fatto che potrebbe esserci uno stimolo chiaramente economico una richiesta di mercato quello sicuramente perché mettersi a fare un qualcosa di cui il mercato è già estremamente saturo potrebbe non avere senso ma devi esserci anche uno stimolo uno slancio da un punto di vista dell'interesse tuo personale e professionale perché altrimenti dopo un po' potresti resistere ma dopo un po' rischi di cadere e rischi di aver poi investito tempo e risorse in qualcosa che che non ti piace e credo che non sia una bella cosa né da un punto di vista professionale né da un punto di vista poi personale di noi come persone ultimissima ultimissime due cose di questa prima parte siamo già a quasi mezz'ora ho paura che questa puntata sarà un po' lunga ma poi quando parlo di questi argomenti mi faccio prendere la mano però beh sai che sei abituato al format delle puntate del podcast e quindi sai che ci possono essere puntate di una mezz'ora come puntate un po' più lunghe per cui eventualmente puoi mettere in pausa alla fine di questa prima parte se sei in macchina se sei da qualche parte la puoi riprendere in un secondo momento allora secondo me nel mondo della fotogrammetria o meglio nel mondo del rilievo o ancora meglio per quello che sto vivendo io adesso la mancanza di commesse non deve essere un pretesto o una scusa per farti stare fermo è normale che ci siano dei momenti in cui non ci sono commesse o non hai clienti o magari hai emesso un po' di preventivi e ancora ti si devono finalizzare e non hai fisicamente delle commesse aperte qualcosa su cui devi lavorare e per cui devi fare delle consegne questo non deve essere un motivo un freno a non fare niente anzi secondo me l'approccio mentale che dovresti avere ma questo vale veramente per tutti i tipi di lavori che richiedono un'applicazione pratica sul campo l'approccio mentale che dovresti avere è quello di ho un momento chiamiamolo di buco mi metto a fare quel test che mi ero segnato di fare e non ho mai avuto il tempo perché fino ad oggi ho avuto le commesse ho avuto dei clienti da seguire quello è un momento buono quello è un momento a cui ti puoi dedicare per fare questi test è vero anche che c'è da considerare il fatto che i test che riguardano la fotogrammetria spesso non sono test che durano 5 minuti non si tratta di scattare una fotografia e vedere se il sensore di quella macchina fotografica lavora bene con degli ISO molto alti si tratta di andare sul campo o comunque programmare un'acquisizione fare le fotografie prendere le misure rientrare elaborare i dati quindi sono test che comunque un po' di tempo ti portano via e quindi se hai uno slot di tempo libero uno o più slot giorni usali per fare i test per fare le prove ritorno al discorso di prima sporcati le mani questo è il momento per farlo e veramente non c'è mai non ci sarà mai il momento di tregua totale di dire ok non ho niente da fare sei tu secondo me che decidi che non hai niente da fare perché ti vuoi prendere una pausa ed è lecito sacro santo fai bene a farlo ma ci sarà sempre qualcosa da seguire qualche articolo scientifico da leggere qualche libro da comprare qualche qualche strumento da provare quindi c'è sempre qualcosa da fare e usa i momenti di buchi tra le commesse per farlo perché alla fine ti ritorna tutto quanto e qua mi ricollego molto a quello che ho detto all'inizio prova 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 studia studia sporcati le mani quindi utilizza questi momenti anche se non ci sono le commesse te le puoi creare tu l'altra cosa che riguarda la parte legata allo studio e alla formazione che mi sento di dire perché un po' mi confronto spesso con altri tecnici con altri colleghi con persone che gravitano intorno a questo mondo che vogliono muovere i primi passi o stanno già muovendo i loro passi in questo mondo è che non c'entra niente con la parte tecnica non c'entra niente con il know-how con l'approccio è una cosa secondo me molto pratica però estremamente efficace nell'ottica di formarsi e di conoscere e di acquisire informazioni imparare l'inglese se sei limitato ma limitato in senso buono cioè vincolato a accedere alle informazioni di cose che sono scritte o dette o video che sono commentati in lingua italiana tu hai accesso a un certa percentuale o a un piccolo sottinsieme di tutte le informazioni a cui potresti accedere se surfassi la rete se andassi su google se andassi su youtube e accedessi a tutte le informazioni in lingua inglese allora la lingua inglese ti dà accesso a tutte le informazioni del mondo non tutte quasi tutte questo podcast chiaramente in inghilterra in america non lo possono ascoltare perché è in italiano però io posso andare praticamente ovunque nella rete e reperire informazioni che sono scritte in lingua inglese gli articoli scientifici sono tutti scritti in lingua inglese e lì c'è un sacco da leggere c'è un sacco da imparare i software adesso si stanno sviluppando i software con le versioni italiane Metashape ha una versione italiana Zephyr è un software italiano Pix4D credo che abbia la versione italiana sono tutti software di elaborazione fotogrammetrica non è così nelle primissime release e quindi potresti trovarti a utilizzare dei software che hanno dei menu in inglese quindi se sai l'inglese è meglio davvero l'inglese conoscere l'inglese anche soltanto nel fruire di contenuti di informazione ti permette di accedere a un mondo di informazioni poi se lo sai anche parlare se sai comunicare in inglese riesci a connetterti con un mondo intero che c'è oltre l'Italia però in primissima battuta potrebbe essere sufficiente riuscire a fruire tutti i contenuti in inglese ad ascoltare un video a leggere un testo e quindi tirare fuori da lì tutto quello che ti serve per imparare per migliorare e per diventare bravo ci sono tantissime cose che succedono in Italia sono bellissime il sito di Zephyr di Tradiflow c'ha un sacco di tutorial che sono in italiano un sacco di documentazione in italiana però non sarà mai tutta la documentazione a cui puoi accedere al mare magnum che c'è fuori se decidi di accedere alla documentazione in inglese per cui è veramente una cosa che potrebbe non sembrare non centrare niente ma in realtà è davvero importante la possibilità di accedere a tutte le informazioni e lo hai soltanto se le approcci alla lingua inglese se il tuo tempo a disposizione per ascoltare oggi questa puntata del podcast è finita puoi mettere in pausa perché adesso parlo della seconda parte quindi la puoi riprendere in una seconda battuta altrimenti stai con me perché adesso ti parlo della seconda parte delle seconde pratiche o quello che almeno io ho fatto che per me ha funzionato tantissimo e mi dà la possibilità di lavorare nel mondo della fotogrammetria perché poi la puntata di oggi ruota intorno al lavoro nel campo della fotogrammetria queste pratiche però ci tengo a precisare ci tengo a dirlo sin da subito sono applicabili a tutti i settori ai settori di lavoro c'è poco da fare è così e puoi utilizzare secondo me puoi usare questo approccio in qualsiasi ambito di lavoro tu sia operativo quindi non soltanto nella fotogrammetria ma se stai ascoltando questa puntata del podcast è molto probabile che tu non sia un sarto ma sia uno che si occupa di rilievi o comunque che è appassionato di queste cose e quindi stiamo su quest'ambito qua però sappi che funziona un po' per tutto la parola è abbastanza semplice e se mi segui sia sul podcast che su telegram sul blog sai che è una cosa a cui tengo molto e che faccio sin dall'inizio in cui ho deciso di prendere questa strada è condividere contenuti e informazioni in questo modo condividendo quello che sai allora la condivisione di contenuti io ho un po' la studiata questa cosa quando ho iniziato questa nuova attività avevo un portafoglio clienti proveniente dalla vecchia attività abbastanza limitato quindi l'esigenza di tutti è quella di dire ok ci sono faccio queste cose posso essere anche molto bravo non lo ero non lo sono neanche adesso però ci sono beh però qualcuno deve sapere che ci sono perché altrimenti se nessuno sa che ci sono è difficile poi lavorare anzi è impossibile va bene fare tutti i test però poi alla fine i lavori devono arrivare quindi ho un po' guardato un po' cercato ho fatto un po' di analisi ho fatto un po' di studi mi sono un po' documentato ho approfondito l'argomento e ho deciso e ho capito che uno dei modi per poter dire al mondo al mondo per poter dire fuori ai tuoi potenziali clienti o alle persone che potrebbero essere interessate ai tuoi servizi che ci sei è condividere dei contenuti quello che sai utilizzando la rete siamo nel 2019 io ho iniziato nel 2017 la rete siamo già al 3.0 boh non lo so 4-5G non lo so adesso la rete è sicuramente uno strumento estremamente potente da utilizzare per veicolare informazioni ci sono i social network ci sono tutti ormai abbiamo un accesso a rete in rete ce l'abbiamo anche sempre con noi perché abbiamo gli smartphone che sono sempre connessi per cui la rete è un modo per comunicare informazioni e la condivisione di contenuti la condivisione di informazioni è un modo per dire ok ci sono faccio queste cose magari facciamo rete conosciamoci potrebbe essere che il mio servizio potrebbe tornarti utile così come il tuo servizio potrebbe tornare utile a me quindi la cosa che io che io ho fatto che io faccio che continua a fare e che faccio con grande entusiasmo perché all'inizio l'ho fatto un po' per per cercare di di iniziare un processo che mi portasse a dire ok ci sono ci sono anch'io faccio queste cose però poi in realtà è una cosa che mi dà tanta soddisfazione anche se mi porta via anche se ci dedico un bel po' di tempo condividendo contenuti condividendo informazioni dai la possibilità alle persone di farti conoscere però i contenuti che devi condividere sono secondo me alcuni accorgimenti sulla condivisione di contenuti sono sono questi non devi aver paura di dire quello che sai perché se sei uno che è geloso del suo know-how allora la condivisione di contenuti non fa per te io condivido quello che faccio quotidianamente condivido quello che so condivido quello che ho imparato e lo faccio senza paura che qualcuno mi porti via un po' della mia conoscenza ragazzi siamo nel 2019 per cui se se non dico io qualcosa se io non dico che quella missione di volo in quella condizione particolare si può programmare in quel modo ma senza neanche entrare troppo nel dettaglio basta andare su google e in qualche modo all'informazione più o meno riesco ad arrivarci chiaro ci sono cose che è giusto non condividerle ma sono cose legate a dei lavori che hai in corso a delle accordi di riservatezza che magari hai fatto con i tuoi clienti o degli accordi commerciali con dei partner qualunque tipo di cose qualunque tipo di accordi tu decidi di siglare devi sottostare e osservare quegli accordi però per quanto riguarda il tuo know-how quello che sai non aver paura di tenertelo dentro non aver paura che qualcuno te li rubi butta fuori perché alla fine dai informazioni utili di qualcosa che possa tornare bene alle persone perché alla fine ti tornerà indietro un sacco ti tornerà indietro una valanga di informazioni un sacco di contatti e lavorerai se tu aiuti gli altri o meglio dai delle informazioni che possono aiutare gli altri intanto gli altri prendono queste informazioni e le utilizzano e comunque sono sono in qualche modo grati o ti sono grati non debitori perché è una parolona però ti sono grati per quello che hai fatto perché magari li hai aiutati a risolvere un problema ti connetti con le persone perché magari se tu scrivi sul blog se apri un blog quindi un sito web che ha uno stampo di blogging quindi dove scrivi dei contenuti dei testi o se pubblichi degli aggiornamenti costanti sui social network magari su dieci persone che leggono il tuo contenuto nove lo prendono e lo usano a proprio uso e consumo magari uno però ti ringrazia ti scrive e da lì nasce una connessione e nel momento in cui nasce una connessione si creano delle dinamiche scattano delle cose che sono molto interessanti sia per chi ha ricevuto il tuo contenuto sia per te che hai dato il tuo contenuto quando incontatti una persona quando incontri una persona andando un po' oltre il thumbs up cioè il pollice su delle emoticons ma magari scambiandoci qualcosa dopo un po' che hai creato una relazione con questa persona ma non serve neanche che sia una relazione di anni quindi conoscenze annuali o mensili basta anche veramente poco succederà in un modo o nell'altro che andrete a parlare andrete a confrontarvi su qualcosa di cui quella persona necessariamente sa qualcosa che tu non sai perché ognuno di noi ogni persona con cui ci confrontiamo sa qualcosa in più di noi sarebbe veramente un'assurdità pensare di sapere più degli altri non è così nessuno è così ci sarà qualunque persona che noi incontriamo sa qualcosa che noi non sappiamo e se c'è la veicola noi abbiamo imparato qualcosa io ho imparato talmente tanto dal contatto con altre persone che ho conosciuto tramite la condivisione di contenuti che ho scoperto dei nuovi strumenti ho scoperto dei software ho scoperto dei siti web di riferimento ho scoperto delle riviste scientifiche ho scoperto dei trucchetti per stare fuori sul campo per pilotare il drone per scattare fotografie per elaborare le fotografie le misure nel software di elaborazione ho saputo un sacco di cose veramente tantissime cose e questo è stato possibile soltanto perché sono stato io all'inizio che ho deciso di dare fuori le cose e di dire quello che sapevo senza pretendere niente in cambio perché se poi tu dai fuori qualcosa crei contenuti con lo scopo di avere necessariamente qualcosa indietro beh allora forse non lo fare perché potresti rimanere molto deluso perché non è così tante persone si prendono i tuoi contenuti se li sarebbero prese comunque li prendono anche da altri e non ti dicono neanche che esistono neanche ti ringraziano ma non devi neanche pretendere un loro ringraziamento se vuoi decidere di fare la condivisione dei contenuti devi sapere che è così sarà sempre così ma ci saranno persone che decideranno di connettersi con te e di dirti anche soltanto grazie e mi hai aiutato a risolvere questo problema e già quella è una cosa bella perché quando una persona ti ringrazia per qualcosa a me personalmente fa stare molto bene ma poi può succedere che quella persona diventa una connessione quella persona si ricorda di te rimane una connessione e quella persona magari ti dà la possibilità di lavorare perché c'è una consulenza perché magari c'è un lavoro che da solo non riesce a farlo ha bisogno del tuo servizio ha bisogno di te perché sai fare una cosa che lei non sa fare e di cui ha necessità per quella commessa e da lì e da lì lavori ora il mondo che è legato ai contenuti che si possono condividere online è grande non è un oceano vastissimo ci sono alcuni alcuni canali che si possono utilizzare per creare contenuti e per condividerli però sono tanti io non sono un esperto di content marketing se vuoi ti do i riferimenti di Alessio Beltrami che è la persona che mi ha dato il là per iniziare questa attività nel maggio del 2017 però quello che mi sento di dirti è scegli dei canali se vuoi farlo perché poi magari non hai detto che tu lo voglia fare scegli dei canali e inizia a dare fuori a dire quello che sai fare a dare fuori quello che sai fare puoi anche mettere pubblicare o parlare di lavori che hai fatto ma secondo me l'ottica è quella sempre di mettersi in una condizione di ti dico quello che ho fatto perché potresti potrebbe esserti utile anche a te non tanto perché guarda come sono bravo che ho fatto questo ma c'è stato questo aspetto che mi ha creato un po' di casini sul campo l'ho risolto in questo modo magari 100 persone su 100 persone soltanto 5 potrebbero essere interessati a quel piccolo aspetto che tu hai risolto in quel modo lì ma 5 persone tu le hai aiutate e per quelle 5 persone magari in quel caso tu hai fatto un pochino di differenza e di quelle 5 persone magari con una persona fai una connessione e magari ti fa lavorare per cui la cosa che mi sento di dirti è butta fuori contenuti che siano di aiuto o meglio che possono essere di aiuto agli altri senza che essi siano troppo autoreferenziali ti dico quello che ho fatto io ora non devi seguire alla lettera tutto quello che è stato il mio percorso io ho fatto una scelta ho scelto di dedicare molto tempo alla produzione di questi contenuti e alcuni la chiamano divulgazione scientifica in realtà io non sono un divulgatore scientifico e mai lo diventerò perché non sono un accademico e l'università l'ho fatta quando ero uno studente e mi sono allontanato dal mondo universitario per entrare a lavorare e la divulgazione scientifica non lo faccio ho fatto un articolo scientifico quasi dieci anni fa che riguardava altre cose modellazioni di valanghe però io non sono un divulgatore scientifico io condivido un po' i contenuti condivido soprattutto l'esperienza che faccio sul campo ma non l'esperienza in termini ho tanta esperienza l'esperienza in termini di ho fatto questa cosa vi dico perché mi è uscito questa roba qui oppure ho trovato interessante questo aspetto o c'è questo software o cose così insomma beh io ho iniziato nel maggio del 2017 il percorso di 3Dmetrica l'ho iniziato nel maggio del 2017 e ho scelto di iniziare con scrivendo un blog che è 3dmetrica.it e pubblicando sui canali social network all'inizio io scrivevo un articolo alla settimana sul blog che riguardasse il mondo della topografia ci trovi un po' di tutto dentro se vuoi vedere i primi articoli trovi informazioni legate agli strumenti trovi informazioni legate a come si approccia un rilevo con drone trovi informazioni legate ai modelli digitali di elevazione alle quote alle curve di livello scrivevo abbastanza a ruota libera su quelli che però erano sempre temi legati alla topografia alle misure e ai rilievi parallelamente ho scelto di fare dei post quotidiani sui canali social network che uso che sono fondamentalmente a quel tempo erano due sono ancora adesso due e sono LinkedIn e sono la pagina Facebook di 3Dmetrica il mio profilo personale di LinkedIn perché non ho trovato nelle pagine LinkedIn uno strumento potente come il profilo personale e poi la pagina Facebook di 3Dmetrica perché come profilo personale poi Facebook mi avrebbe bannato vabbè queste sono altre dinamiche e lì ogni giorno scrivevo qualcosa ogni giorno dal lunedì al sabato scrivevo qualcosa qualcosa che erano dei piccoli post anche delle fotografie o delle pillole che riguardavano magari quello che avevo fatto in quel momento sul lavoro una cosa che avevo trovato un ostacolo che avevo trovato magari facendo un'elaborazione e una cosa su cui mi c'ero anche un po' scervellato e l'avevo risolta trovando questa soluzione quindi un post al giorno e un articolo del blog alla settimana questo è stato l'inizio dopo un po' di mesi nel novembre 2017 ho affiancato a questa attività quella del canale Telegram il canale Telegram che è 3Dmetrica lo trovi come telegram.me è quel posto dove c'è una piccola community di persone che adesso siamo intorno ai 250 iscritti dove mi sento un po' più a casa un po' più in famiglia dove lì oltre a replicare i contenuti quotidiani dei social network dove linkare gli articoli del blog ci metto molto molto di personale ci metto un bel po' di dietro le quinte un po' di materiale in più ci metto anche dei piccoli video che mi faccio spiegando alcune cose sul campo c'è una cosa in cui mi sento molto libero e che mi piace anche molto da cui poi ricevo anche molto in cambio dagli iscritti al canale dopo aver aperto il canale Telegram ho continuato a portare avanti questi aspetti questi canali divulgativi comunicativi non divulgativi finché nel aprile 2018 ho deciso quindi quasi un anno dopo all'inizio del blog ho deciso di iniziare questo progetto il progetto del podcast di cui io sono un grande fruttore mi piacciono tantissimo i podcast li ascolto molto e ho imparato tanto dai podcast ho detto perché non fare anche un podcast che riguarda questi aspetti visto che in quel momento in Italia non ce n'erano e ho pensato che potesse essere una buona prosecuzione una buona continuazione dell'attività che avevo iniziato a fare quindi è iniziato nell'aprile 2018 il podcast di 3Dmetrica una puntata alla settimana a ottobre del 2018 l'avevo già iniziato una sorta di newsletter ma era un po' una porcheria nel senso che era un canale un bottone sul blog dove ti ci scrivevi e ricevevi in cambio una mail ogni volta che scrivevo un articolo del blog ho deciso di fare una newsletter un po' più strutturata a ottobre del 2018 che comprendesse fondamentalmente tutti gli articoli tutti i post che avevo scritto nella settimana che si era appena conclusa io mando la newsletter il lunedì e ha una lista di iscritti che si sceglie autonomamente di iscriversi tramite il blog in questa newsletter ci trovi tutti i post della settimana passata la puntata del blog la puntata della scusa di questo podcast e l'articolo del blog se l'ho scritto perché adesso il blog l'ho diluito a sto cercando mi sto impegnando a scrivere il blog ogni due settimane ora sono in ritardo sto scrivendo adesso adesso quando finisco di registrare continuerò la scrittura del post nuovo l'ultima cosa che ho aggiunto è stato nel gennaio di quest'anno quindi da pochissimo infatti siamo al numero due video pubblicati sul canale youtube ho iniziato a fare dei piccoli video che sono fondamentalmente dei mini tutorial chiamiamoli così un po' più spiegati rispetto a un tutorial sterile ma gli tutorial non sono sterili perché poi ti devono spiegare qualcosa però c'è un po' di spiegazione perché poi io mi dilungo sempre in queste cose dei mini tutorial che riguardano l'utilizzo specifico di software e quindi magari elaborazioni specifiche in software Structure from Motion adesso ho fatto soltanto due video che riguardano l'elaborazione di nuvole di punti con il software Cloud Comperge quindi qualcosa che possa essere utile a chi utilizza questi software e a chi elabora questi dati tridimensionali sia finiti quindi le nuvole di punti che in fase di produzione quindi la parte Structure from Motion e di questo sto producendo un video alla settimana mi sto interrogando se intensificarlo oppure no però per ora stiamo su questa base qua quindi questa è un po' il mio contenitore gli strumenti che utilizzo per buttare fuori usiamo questo termine qua un po' brutto un po' forte per buttare fuori per tirare fuori i contenuti e da questi strumenti da questi contenuti che io pubblico da quello che dico nel senso che da quello che che comunico in termini di ti dico quello che so ho ricevuto non è idea in cambio indietro un mondo innanzitutto lavoro perché comunque sembra stupido dirlo però se scrivi in blog ti posizioni nei motori di ricerca Google premia gli articoli che sono scritti con finalità di divulgazione rispetto agli articoli che vogliono metterci dentro una keyword che deve essere trovata dal Penguin che è l'algoritmo di Google per fare la classificazione delle pagine per cui ti classifichi nei motori di ricerca per cui quando qualcuno fa una ricerca in rilievo fotogrammetrico è più facile o meglio piano piano nel tempo scrivendo costantemente nuovi articoli vieni fuori e compari nei primi risultati di Google e tutti sappiamo che se sei in seconda pagina di Google probabilmente lo 0,1% di persone riuscirà ad arrivare alla tua pagina quindi già c'è una parte legata al posizionamento la presenza sui canali social network ti permette di entrare in contatto costante con le persone perché se tu pubblichi ogni giorno non ti preoccupare non sei fastidioso perché sui social network c'è di tutto adesso LinkedIn è un social network secondo me molto interessante ed è e funziona bene per l'ambito professionale su Facebook sappiamo tutti che ci sono un sacco di porcherie per cui non preoccuparti di scrivere cose utili che possono essere di utilità a qualcuno anzi vai ce ne fossero di persone che scrivono cose utili se lo fai tutti i giorni alla fine le persone tutti i giorni ti vedono ti guardano leggono quello che scrivi magari ti rispondono o si decidono a commentarti a mandarti un messaggio dopo un anno ma per loro tu ci sei e quindi sei un riferimento nel caso in cui loro debbano avere una necessità nel campo di quello di cui tu sei specializzato che in questo caso è la fotogrammetria e mi è capitato di entrare in contatto con un sacco di persone sui social network per l'attività di comunicazione in quest'ambito di ti dico quello che so fare guarda faccio queste cose ho risolto questo problema in questo modo lo faccio ogni giorno e le persone ti contattano e quando ti contattano le persone poi alla fine lavori perché dai diciamocelo chiaramente i rapporti di lavoro cioè anche quando tu scrivi un contratto un contratto di lavoro un'offerta di lavoro la firmano le persone quindi è necessario che ci sia un collegamento tra le persone e se c'è un collegamento tra le persone c'è la possibilità poi di installare il rapporto di lavoro oltre al fatto che se c'è un collegamento con le persone si crea se poi si lavora bene se alla fine c'è sinergia se le cose funzionano si crea un effetto volano virtuoso che porta le persone che hanno lavorato con te a segnalarti ad altre persone e tu a segnalare quella persona ad altri ti porto un esempio della mia storia recente io ho avuto la possibilità la fortuna sto ancora lavorando con con Brianza Acque che è un lente gestore della risorsa idrica nella nella provincia di Monza e Brianza e ho lavorato tramite una 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 gara per affidamento di servizi a cui ho partecipato e da lì è iniziata la nostra collaborazione ci siamo trovati estremamente bene uno con l'altro in particolare il mio riferimento in Brianza Acque è Cornelia Di Finizio una persona estremamente in gamba con una veduta tecnica umana personale lavorativa veramente ampissima e le cose funzionano stiamo facendo delle belle cose insieme stiamo provando testando e tramite lei io ho conosciuto altre persone e se io devo parlare di un esempio virtuoso di un'amministrazione pubblica virtuosa la prima cosa che mi viene in mente da dire è Brianza Acque è in questo momento per la mia esperienza chiaramente l'ente più virtuoso con cui abbia mai avuto a che fare è un ente che investe magari qualcuno butta un occhio e si iscriva all'elenco professionisti di Brianza Acque perché sa che è un ente che funziona e che quando ci sono dei finanziamenti accede a dei soldi poi li investe in progetti di ricerca o delle cose che sono interessanti per cui la rete crea lavoro e crea poi questo effetto molto virtuoso ho paura di essermi dilungato un po' troppo con questa puntata e quindi facciamo che vado velocemente verso la fine ci tengo però a dirti soltanto una cosa che è una cosa che va saputa nel momento in cui tu decidi di approcciare la produzione di contenuti online per per farti conoscere e quindi per avere un riscontro dalle persone e poi anche per lavorare posto che questo funziona per per tutti i lavori secondo me anzi ti faccio due due appunti il primo appunto o la prima considerazione è che a volte quando mi confronto su questo tema mi viene detto ma io non so che cosa dire non è vero se tu fai un lavoro c'è per forza qualcosa che tu sai di quel lavoro che puoi comunicare agli altri e la cosa importante è che spesso noi banalizziamo quello che facciamo per il fatto che lo facciamo da tanto tempo e pensiamo o meglio siamo talmente abituati a fare quella cosa che ci è diventata una routine e quando una cosa ci diventa una routine ci diventa un'abitudine crediamo che non sia più complessa e quindi crediamo che anche per gli altri non sia una cosa difficile non è così anche una cosa che ti sembra banale potrebbe essere una cosa che risolve il problema a qualcuno che quell'argomento non la conosce e che ci si avvicina in quel preciso istante o che non ha esperienza in quel campo lì per cui anche le cose più banali comunicale se magari 10 persone su 10 persone 9 la trovano banale se c'è anche solo una persona che non la trova banale tu hai comunicato a quella persona e l'hai aiutata per cui quella persona si ricorderà di te per cui c'è sempre qualcosa che puoi comunicare perché c'è sempre qualcosa che sai che riguarda il tuo lavoro l'altra cosa l'altra cosa che ci tengo a dire è che la produzione di contenuti e i risultati che arrivano dalla condivisione di informazioni online senza paura di dire quello che sai è un processo lungo non è un processo che ti dà dei risultati dall'oggi al domani ma neanche dall'oggi al tra due mesi è un processo che dà i risultati nel tempo e tu devi essere costante e paziente quindi devi costantemente ti fai una sorta di mi verrebbe da dire obbligo comunicativo non è così ti fai una sorta di impegno ecco l'impegno è la parola giusta impegnati a pubblicare tutti i giorni qualcosa o secondo quello che tu ritieni essere sostenibile per il tuo lavoro per quello che hai da fare perché poi ognuno è diverso ognuno ha cose diverse da fare e mantieni quell'impegno e sii costante ma d'altra parte sii anche paziente perché all'inizio non arriverà niente o arriverà arriverà pochissimo anche qua ti voglio fare un esempio ma prendilo veramente come dei numeri di per sé senza che ci sia un vanto dietro però è un esempio che ti faccio che riguarda me per cui è un esempio che conosco e quindi non mi voglio vantare di questo davvero non prenderlo come un vanto prendilo come un esempio numerico io ho iniziato a scrivere sul blog di 3Dmetrica nel maggio del 2017 inizio maggio 2017 a fine giugno 2017 io avevo visite mensili sul blog zero quindi vuol dire che in due mesi neanche mia mamma è venuta a leggere quello che scrivevo comunque zero visite in due mesi e ti assicuro che controllavo costantemente Google Analytics e mi cicruciavo di questa cosa che nessuno venisse a leggere quello che avevo fatto nonostante che pubblicassi comunque di incassi di articoli su Facebook su LinkedIn veramente niente perché i motori di ricerca non mi avevano ancora individuato perché non ero nessuno per LinkedIn e per Facebook e anche se qualcuno leggeva il link non lo trovava interessante per cliccarci sopra e leggere l'articolo per cui due mesi di zero tra maggio scusa tra luglio 2017 e ottobre 2017 quindi o meglio facciamo tra maggio 2017 e ottobre 2017 le visite in sei mesi quindi le visite medie mensili del mio blog di 3dimetrica.it si aggiravano intorno a 200 visite al mese non sono per niente tante sono davvero poche come visite però sono poche anche se il poco tanto è un concetto relativo adesso io ho comunque continuato a scrivere ho continuato a fare a scrivere con costanza a linkare sui canali social network gli articoli ora quindi nel gennaio del 2019 il mio blog arriva circa a 9000 visite al mese quindi questo per farti capire che i risultati ci sono il processo 9000 visite al mese potrebbe essere un numero ridicolo per tanti perché ci sono persone che che hanno blog siti o comunque realtà che che hanno visite per centinaia di migliaia di accessi mensili però per me sono tantissimi per me è un numero enorme pensare che 9000 persone che comunque hanno un tempo di permanenza anche abbastanza alto 2-3 minuti che comunque non è bassissimo si fermano e leggono i miei articoli e trovano comunque qualcuno di esse trova un un giovamento da quello che faccio è una cosa veramente è un numero alto e i risultati ci sono se sei costante nel tempo se ti scoraggi e dici ok nessuno mi ha considerato nelle prime due settimane mollo tutto quanto non ne vale la pena non l'hai provato veramente ci vuole un po' di costanza e ci vuole un po' di pazienza per cui i risultati si vedono se sei costante se sei paziente e dopo un po' di tempo penso di averti asciugato abbastanza spero a questo punto che tu abbia sentito questa puntata in due parti perché perché c'è c'è tanto ho detto tanto ho paura anche di essermi un po' lasciato andare troppo di aver parlato a braccio le cose che mi sono segnato le ho seguite e ne ho parlato però temo di avere un po' forse esagerato forse un po' divagato comunque in ogni caso fammi sapere che cosa ne pensi e dammi il tuo riscontro perché mi fa molto piacere sapere il tuo parere in questo ambito ti ripeto quello che ho detto riguarda la fotogrammetria perché è un settore in cui lavoro e riguarda la mia esperienza personale però io credo che tutto quanto può essere tranquillamente applicato traslato chiamiamolo come vogliamo anche in altri ambiti lavorativi cioè qualunque ambito lavorativo in cui è necessaria una skill è necessaria della strumentazione è necessario sapere qualcosa e proporre dei propri servizi può beneficiare di tutto quello che ti ho detto sia da un punto di vista del know-how tecnico e della conoscenza che da un punto di vista della comunicazione di quello che sai fare attraverso internet attraverso i contenuti se ti va di darmi un tuo riscontro lo puoi fare su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini ti rinnovo l'invito a scriverti al canale telegram di 3dmetrica telegram.me slash 3dmetrica altrimenti mi trovi su facebook trovi la pagina facebook di 3dmetrica e mi trovi su linkedin come profilo personale di paolo corradeghini su youtube il canale youtube che ti linko nelle note dell'episodio trovi inizia a trovare un pochino di video sui software su alcuni tutorial che sto pubblicando e riguardano l'utilizzo di software di elaborazione dei dati tridimensionali faccio un appello in finale di questa puntata che è già abbastanza lunga per cui mettiamoci in un'altra ancora qualche minuto in più che tanto ormai ci siamo se ti va di far crescere questo podcast potresti dare una recensione su itunes in questo modo con una recensione su itunes riusciamo il podcast di 3dmetrica riesce a raggiungere quindi a salire un po' nelle graduatorie nelle classifiche di itunes non che me ne freghi molto però comunque in questo modo c'è la possibilità che altre persone che sono interessate ai contenuti di questo podcast possano venirlo a conoscere quindi anche loro possono fruire di quello che dico per cui se ti va di darmi una recensione su itunes a me fa molto piacere io ti ringrazio davvero tantissimo di cuore per essere arrivato ad ascoltare questa lunga puntata fino qua ti saluto fortissimo e ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3dmetrica ciao da paolo corradeghini di 3dmetrica di 3dmetrica Grazie a tutti.